Che bello uccellino hai liberato. Chi sei? E perché eri rinchiusa in questo carro? She lost! Scozzese, come immaginavo. Scozia. Siamo più lontani da casa di quanto pensassimo. Dove mangiano gli ometti del nord come te a colazione? Sarà meglio andare via. Il nostro insediamento più vicino deve essere a sud. Due, forse tre giorni. Non ci faranno mai entrare a mani vuote. Noi non siamo a mani vuote. Guarda questa spilla. E il ricamo dorato del suo vestito. Questo è un uccello di razza speciale. E gli uccelli speciali valgono una ricompensa speciale. Sufficiente a pagare per tutti noi. Sicuramente. Non ho ragione.